San Pietro a Trento per il Comitato San Simonino, domani anche una del culto del Simonino in preghiera per il bimbo Simone in San Pietro a Trento, primo appuntamento questo pomeriggio del Comitato San Simonino che chiede il ripristino del culto e la restituzione delle reliquie del copatrono della città di Trento, sentiamo. Un rosario in latino per risuscitare il culto del beato Simonino nella chiesa di San Pietro a Trento, nel pomeriggio una trentina ai fedeli riuniti in preghiera per questo 24 marzo, festa liturgica del bimbo che fu copatrono della città di Trento, annegato in una roggia nel 1475, ma per i cristiani del tempo sgozzato da una famiglia israelita, la morte del Simonino per la storia non fu martirio, ma per il Comitato Trentino che porta il suo nome e chiede la restituzione delle reliquie e ristabilimento del culto, sì. L'appuntamento era alle 15.30 nella chiesa di San Pietro a Trento, ma le porte erano sbarrate, così in una porta della chiesa i fedeli del Simonino hanno infilato la loro preghiera, un foglio che su di un lato riporta i documenti sulla figura del bimbo martire, compreso un passo del contestato volume poi ritirato anche dalle librerie Pasqua e di Sangue di Ariel Toaf, poi una suora per caso ha ammesso di aver aperto le porte della chiesa ed i fedeli hanno potuto pregare.